Maltempo, allerta arancione a Palermo e provincia, nubi fraggio nella notte, danni e disagi un po' ovunque. Tassisti da tutta la Sicilia per protestare contro la liberalizzazione del settore davanti alla sede dell'Assemblea regionale siciliana. Accordo sul cantiere navale di Palermo, per la FIUM si tratta di un passo deciso nella direzione del rilancio dello stabilimento. Buonasera e bentrovati alla prima edizione di Media News di martedì 5 febbraio. Come avete sentito dai titoli, continua il maltempo, allerta arancione a Palermo e provincia, nubi fraggio nella notte, danni e disagi un po' ovunque. Vediamo il servizio. Il maltempo continua ad imperversare su tutta la Sicilia, colpita in particolar modo la parte orientale della provincia di Palermo, dove oggi c'è l'allerta arancione. Situazione meno difficile, ma sempre all'insegna delle nuvole, del vento e della pioggia anche nei altri comuni. Si prevedono precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio temporale, soprattutto sui settori settentrionali e orientali, si legge nell'avviso della protezione civile. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento. Si prevedono anche mareggiate. Il maltempo ha provocato danni e disagi, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto tra Misilmeri e Casteldaccia, per soccorrere alcune persone. E' stato necessario anche l'intervento dei sommozzatori, che hanno soccorso alcune persone rimaste intrappolate. Disaggia anche in città per la pioggia caduta questa notte. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere due automobilisti rimasti intrappolati nella loro auto per l'acqua troppo alta. Per fortuna nessun ferito, ma soltanto molta paura. Il torrente Milicia, che la notte del 4 novembre scorso straripò uccidendo nove persone che si trovavano nella zona di una villetta abusiva, torna a farsi minaccioso. Anche questa mattina i vigili del fuoco sono in zona per assistere diversi automobilisti bloccati e per cercare di monitorare l'area. Interventi in provincia per allagamenti anche a Ficarazzi e a San Giuseppe Iato. Disaggi sull'autostrada A18 Messina-Catania fin da ieri sera. Diversi automobilisti sono rimasti fermi a causa di buche che si sono create sull'asfalto lungo la tratta Giardini Naxos-Taormina-Roccalumera. Difficoltà anche alle Toianni, dove una ventina di auto sono rimaste bloccate. Disposta la chiusura parziale dell'autostrada, i mezzi leggeri provenienti da Catania usciranno dallo svincolo di Giardini Naxos e percorrendo la statale 114 potranno reimmettersi nella A18 attraverso lo svincolo di Roccalumera. I mezzi pesanti continueranno a percorrere l'autostrada con l'istituzione di un senso unico alternato che sarà disciplinato con l'ausilio della Polizia Stradale e del personale del CAS. Il senso unico alternato interesserà a tutto il traffico proveniente da Messina e diretto a Catania. La misura si è resa necessaria per effettuare gli interventi urgenti di ripristino del manto stradale. Ad Acireale due alberi sono caduti sulla strada statale 114 e un altro in Piazza Dante. Vigili del fuoco del comando provinciale di Catania al lavoro per liberare le strade dai rami. Tutta colpa di un vortice ciclonico attivo a ridosso di Malta, contraddistinto da un'ampia ed intensa spirale nuvolosa che non abbandonerà la Sicilia ancora per qualche giorno. Oggi davanti la presidenza della regione siciliana Palazzo d'Orlean si tindi protesta dei lavoratori ESA e consorsi di bonifica. Al centro del dissenso la mancanza di risorse in finanziaria destinata ai due settori. Vediamo. Oggi siamo qui a protestare con i lavoratori dell'ente di sviluppo agricolo, i lavoratori stagionali, i cosiddetti trattoristi e con i lavoratori stagionali del consorzio di bonifica della Sicilia perché nella finanziaria regionale che è uscita dalla Commissione Bilancio per questi lavoratori hanno zerato praticamente il capitolo. A fronte di 8 milioni e 7 per l'ESA oggi c'è zero, a fronte di 11 milioni per la bonifica per gli stagionali c'è solo un milione. Oggi questi lavoratori dell'ESA che sono stati impegnati nel dissenso, che hanno fatto un lavoro eccezionale quando ci sono state le alluvioni rischiano di non lavorare lasciando a casa circa 400 lavoratori e quindi 400 famiglie che rischiano di non avere il reddito. Per ciò che concerne invece gli impiegati nella bonifica? Nella bonifica abbiamo più di 800 lavoratori che sono gli stagionali, che sono quelli che di fatto fanno il servizio di erogazione dell'acqua per le aziende e quindi ogni anno sono loro che forniscono l'acqua alle aziende agricole, quest'anno rischia la campagna Enrigua di non partire proprio perché non ci sono le risorse per fare lavorare questi lavoratori. Ovviamente non è solo un problema legato alle famiglie di questi lavoratori ma non partiranno per la Sicilia dei servizi importanti per l'agricoltura. Da 30-40 anni impegnati sempre in lavori di ripristino strade rurali, lavori sui fiumi, di tutto e di più e ancora una volta dopo 40 anni sempre mortificati come oggi. In finanziaria non c'è un euro e quindi dopo tanti elogi di sindaci e anche il Presidente della Regione dello scorso anno per i lavori effettuati nel caso delle sondazioni del Palermitano e anche in tutte le province. Perché di fatto voi intervenite durante le emergenze anche? Anche durante le emergenze ma durante l'anno in diverse tipologie di lavori anche con mezzi meccanici quindi ancora una volta obbligarci a protestare a 50 anni e da 40 anni lavoratori stagionali diciamo così. E con le emergenze che si stanno venendo fuori anche già in questi momenti. Si potrebbe iniziare l'attività lavorativa invece in finanziaria non c'è nulla. E questo secondo lei perché? Perché vi hanno così messi da parte? Secondo me le colpe sono intanto per un malgoverno di 50 anni che poi lo fanno pagare ai lavoratori che certo non c'entrano nulla perché hanno magari mancanze dei finanziamenti quindi praticamente loro risolvono a fare dei tai. Quello che sappiamo fare noi non lo sappiamo fare nessuno in Sicilia. Noi sappiamo fare tutte le cose, portare trattura, spalare, picco, palo, tutte le cose sappiamo fare noi. Tassisti da tutta la Sicilia per protestare contro la liberalizzazione del settore davanti alla sede dell'Assemblea regionale siciliana. È stato approvato un decreto liberalizzazioni. È un decreto che tende anche a regolamentare il servizio della libera circolazione dei trasporti quindi che prevede a tutti che liberamente possono esercitare una professione. Ciò ha creato dei problemi perché per quanto riguarda le restanti regioni in Italia la liberalizzazione è stata regolamentata. Per quanto riguarda la Sicilia e anche la Sardegna invece è stata lasciata allo sbando perché è previsto che ogni esercente, questa attività si intende noleggio con conducente, taxi o moto carrozzette possa liberamente accedere in qualsiasi stallo, in qualsiasi punto della regione Sicilia e Sardegna a differenza delle altre regioni d'Italia dove l'attività può essere esercitata soltanto nel comune dove viene rilasciata la licenza. Quindi si tende a dare libertà regolamentata nelle altre regioni d'Italia lasciando allo sbando invece Sicilia dove chiaramente si crea allarme sociale. La legge deve servire per tutelare il cittadino, non per creare allarme o violazioni della libera concorrenza perché se io do una regolamentazione per la regione Valle d'Aosta, per la regione Campania, per la regione Lazio la devo dare anche per la Sicilia e la Sardegna, non in maniera diversa. Quindi voi lamentate assenza del Parlamento regionale in questo senso? Il Parlamento regionale non ha tutelato la regione Sicilia, è un controsenso però il Parlamento regionale deve rappresentare la cittadinanza, la popolazione siciliana a Roma nel momento in cui vengono approvate le leggi devono essere fatte sentire le voci di coloro che vengono eletti come deputati e che vengono candidati a rappresentare il popolo siciliano direttamente a Roma così come viene paventato durante le elezioni che praticamente non succede mai nel corso della legislatura. Oggi avete chiesto un incontro? Sì, abbiamo chiesto un incontro, siamo in attesa di risposte. Coloro che rappresentano un ritaxi, il sindacato dei trasporti e dei taxi in Sicilia ha chiesto questo intervento, ha chiesto questa riunione. Siamo in attesa di conoscere come si muoverà la regione in difesa dei siciliani. Il problema è che tutti potrebbero venire a lavorare nelle città dove il polo turistico è più alto. Cioè vecchie licenze di paesini sperduti in montagna mai date potrebbero essere prese anche da gruppi grandi di aziende per venire a lavorare poi tutti alla fine a Palermo, a Catania e non dare servizio alle città o ai paesi dove l'autorizzazione viene rilasciata o la licenza viene rilasciata. Questa regionalizzazione creerebbe solo confusione. Solo confusione darebbe potere solo a quei gruppi più grandi di aziende che anche da fuori regione potrebbero venire a investire sul nostro territorio. A Palermo la Polizia di Stato ha confiscato i beni di Alessandro Bronte, un narcotrafficante contiguo a Cosa Nostra. A Palermo passano definitivamente allo Stato due beni immobili, l'intera proprietà di un appartamento in via Trappetazzo nonché una quota di un altro appartamento in via Paolo Emiliano Giudici. È un'autovettura per un valore complessivo di circa 300.000 euro, beni già sottoposti a sequestro il 10 maggio del 2017 di proprietà di Alessandro Bronte. L'uomo già sorvegliato speciale si è caratterizzato fin dalla giovane età quale soggetto pericoloso abitualmente dedito a traffici delittuosi, in particolare in materia di stupefacenti, nonché per avere partecipato a sodalizi mafiosi. Nel dicembre del 2015 è stato tratto in arresto per i reati di associazione mafiosa e traffico di stupefacenti nell'ambito dell'operazione Pantarrei, in quanto è divenuto contiguo alla famiglia mafiosa di Palermo Porta Nuova, per conto della quale gestiva la rete di vendita, il procacciamento della clientela e la diretta importazione di sostanze stupefacenti alla Campania. Per questi fatti nel settembre 2017 il Tribunale di Palermo lo ha condannato alla pena di 12 anni di reclusione. Nel febbraio 2017 Bronte è stato colpito da un'ordinanza di custodia cautale in carcere messa al Tribunale di Palermo per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in seguito ad un'indagine svolta dalla sezione antidroga della squadra mobile di Palermo, l'operazione Back Again. In particolare dalle indagini era emerso come Bronte, nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, avesse rivestito un ruolo di primissimo piano nella gestione di un ingente traffico di sostanze stupefacenti, il cui approvvigionamento avveniva attraverso il canale Campano per quanto attiene alla cocaina e all'Hashish ed attraverso quello albanese per la marijuana. I successivi accertamenti patrimoniali condotti all'Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura di Palermo hanno permesso di individuare come Bronte di suoi familiari non disponessero di entrate lecite e idonee a garantire l'ordinario sostentamento familiare. L'assenza pressoché assoluta di mezzi economici rendeva pertanto privo di giustificazione l'acquisto di numerosi beni formalmente intestati a congiunti ma di fatto riconducibili a Bronte con l'evidente frutto delle sue attività illecite pertanto colpiti oggi dal provvedimento di confisca. Accordo sul cantione navale di Palermo per la FIUM si tratta di un passo deciso nella direzione del rilancio dello stabilimento. Ora tocca al Governo concretizzare il progetto secondo gli impegni assunti da Di Maio. Vediamo. Passo avanti nella direzione del rilancio dello stabilimento Fincantieri di Palermo lo dichiarano Angela Biondi e Francesco Foti, segretari FIUM CGL Palermo dopo l'incontro tra le organizzazioni sindacali Fincantieri Nazionale e la direzione di stabilimento insieme al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Al tavolo è stata data informazione del protocollo firmato lo scorso 28 dicembre fra l'Autorità di Sistema Portuale Fincantieri che sancisce Nauau e nuova funzione dello stabilimento palermitano con la realizzazione di nuove aree date in concessione a Fincantieri l'autoporticciolo acqua santa e l'ampliamento della diga acqua santa che raggiungerà la superficie di 3.000 m2. Vengono inoltre confermati gli investimenti previsti da Fincantieri di 20 milioni di euro per il 2019 e 2020 ai quali si aggiungeranno quelli propedeutici per le nuove aree che l'autorità sta concedendo a Fincantieri per adibirle ad aree industriali. Confermate le concessioni delle aree a Fincantieri dell'Officina Tubisti meccaniche del bacino in muratura da 19.000 tonnellate, il bacino borbonico. Le aree che il porto sta riacquisendo invece sono il Molo Pontili e la Palazzina Molo Nord. Una delle due gruppi presenti in quest'area rimarrà in dotazione a Fincantieri. Per quanto riguarda il bacino da 150.000 tonnellate è in corso di stesura l'accordo di programma che verrà presentato entro il mese di marzo alla presidenza del Consiglio dei Ministri per la sottoscrizione e il conseguente finanziamento delle somme necessarie al completamento dell'opera. I carichi di lavoro per il triennio 2019-2021 si attesteranno ad un milione di ore di lavoro anno e che satureranno oltre che i lavoratori diretti anche l'indotto. Il protocollo va nella direzione di un rilancio, ovvero dello stabilimento che comprende investimenti per dare vita a tutta la mission, compresa quelle delle costruzioni di nave intere dichiarano Angela Biondi e Francesco Foti, segretari FIOM CGL Palermo insieme al coordinatore dell'RSU FIOM di stabilimento Serafino Biondo. Questo è ciò che da anni rivendichiamo. Ora tocca al governo concretizzare il progetto secondo gli impegni assunti dal vice premier Luigi Di Maio in occasione dell'incontro avuto presso il cantiere di Palermo nel mese di novembre. La regione, aggiunge la FIOM, deve dire anche cosa intende fare riguardo alle somme stanziate per il refitting e la costruzione di nuovi traghetti. La nostra ferma richiesta è che tali attività rimangano nel territorio perché occasione di sviluppo e occupazione per le tante professionalità locali. Siglato questa mattina a Palermo, a Palazzo delle Aquile, un protocollo d'intesa fra Comune ed Amat che prevede una collaborazione finalizzata a promuovere sinergie in tema di promozione turistica, in particolare mobilità sostenibile per una maggiore fruizione dei beni culturali. È la conferma di un rapporto consolidato tra il Comune e la partecipata, in questo caso con l'azienda di trasporto, attraverso la messa a regime e insieme di ben otto punti di servizi che sono al tempo stesso resi al turista e resi al palermitano e che sono anche un luogo di acquisto dei mezzi e dei biglietti del trasporto pubblico nella nostra città attraverso la distribuzione di materiale informativo in cinque lingue per consentire sempre di più di rafforzare la nostra dimensione città e l'accoglienza. Proseguo questo rapporto di proficua collaborazione con l'azienda di trasporti, voglio ricordare che cresce a dismisura il numero dei abbonati al car sharing, siamo già arrivati a 6.500, 1.000 in più rispetto all'anno passato, funziona perfettamente il bike sharing, abbiamo esteso il servizio in numerosi comuni della Sicilia occidentale di car sharing e credo che sia il segno che l'Amate è un'azienda vitale che rende un grande servizio alla città. Il tema di un cambio culturale che mi sembra che l'abbiamo prodotto e sta producendo i suoi effetti e oggi viene richiesta, in maniera sempre più esigenza, esigente a qualcosa che prima non veniva richiesto. Oggi venne richiesto di tenere in buon ordine le piste ciclabili, ieri non c'era una piste ciclabili, quindi è chiaro che siamo una città in cammino che ha 39 dei 100 km previsti di piste ciclabili e siamo sulla strada di una sempre migliore efficienza dei servizi resi ai cittadini. Questo non è incompatibile con il perseguire obiettivi alti e avere una visione, noi vogliamo promuovere la mobilità, promuovere in questo caso il bike sharing, sapendo che dicendo che promuoviamo il bike sharing c'è qualcuno che dice sì però questa pista ciclabile non è in perfette condizioni. Prima nessuno diceva niente e non c'erano le biciclette. Abbiamo eseguito una disposizione da parte dell'assessore Riolo per rimodulare questo servizio. Dopo un incontro con l'assessore Gentile, con l'assessore Riolo e con il sindaco di Palermo abbiamo potuto rimodulare questo servizio nuovamente garantendo la presenza così come era già stato stabilito in passato. Quindi un problema che è stato risolto grazie all'immediato intervento del sindaco di Palermo. Sicuramente il servizio ci sarà già da domani. Le risorse saranno prese rispetto alla pianificazione che l'assessore Gentile sta già realizzando per avere poi l'esito favorevole dal bilancio comunale che sarà votato prossimamente. Ma nello stesso tempo anche per il tramite delle multe della ZTL riusciremo comunque a recuperare questa problematica che era stata aperta. Siamo in fase di definire una convenzione con l'assessore Bernadette Grasso, assessore alla presidenza della regione siciliana, per i dipendenti della regione siciliana con il nostro car sharing. Soprattutto ritengo che grazie alla sensibilità dell'assessore Bernadette Grasso tutti i dirigenti che dovranno recarsi in aeroporto per raggiungere Roma settimanalmente con le varie riunioni di tavolo di presidenti, di conferenze stato-regioni, di deleghe tra i vari assessori potranno soffrire del nostro car sharing che avrà la presenza non solo nei siti degli assessorati regionali ma che ha il proprio stallo anche all'aeroporto di Palermo. Dall'inizio di quest'anno è in vigore la riforma dei reparti territoriali della Guardia di Finanza, concepita per garantire una più diffusa presenza delle fiamme gialle sul territorio. La revisione fa seguito a quella che a partire dal 2018 ha interessato i reparti speciali del corpo, rendendoli più snelli e operativi. Dall'inizio di quest'anno è in vigore la riforma dei reparti territoriali della Guardia di Finanza, concepita per garantire una più diffusa presenza delle fiamme gialle sul territorio nello svolgimento della mission di Polizia Economico-Finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione Europea. La revisione fa seguito a quella che a partire dal 2018 ha interessato i reparti speciali del corpo, rendendoli più snelli e operativi anche al fine di fornire maggiore collaborazione alle autoriti di riferimento. Sono tante le novità introdotte con la nuova riforma. Le brigate, soppresse, sono state trasformate a livello di tenenza comandate adesso da luogotenenti in possesso di elevata esperienza di servizio o da giovani tenenti che hanno frequentato i corsi presso l'Accademia al termine dei quali hanno conseguito la laurea specialistica in giurisprudenza. L'istituzione di nuovi gruppi territoriali, uno almeno per ogni provincia, farà sì che venga assicurata più efficacemente la funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività svolta nell'ambito del territorio assegnato ai nuclei operativi metropolitani, alle compagnie, tenenze e dipendenti operanti in ridisegnate circoscrizioni o presso valichi di confine, porti e aeroporti internazionali. Sono stati poi rivisitati i reparti specializzati antiterrorismo, pronto impiego, che assicurano il contrasto ai traffici illeciti e il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e istituite nuove stazioni del soccorso alpino della Guardia di Finanza per l'attività di controllo dei territori alpestri, nonché di soccorso in alta montagna e nei luoghi impervi o colpiti da calamità naturali. L'intento è evidente, non solo l'innalzamento della qualità della presenza dei reparti sull'intero territorio, ma anche e soprattutto la crescita dei livelli di responsabilità, compiuto con l'affidamento di tutte le unità operative a militari di qualificata competenza. In Sicilia in particolare, oltre ad essere stati confermati i preesistenti gruppi di Palermo, quello territoriale e quello dei militari antiterrorismo pronti impiego, Catania, Messina e Trapani, sono stati istituiti analoghi reparti ad Agrigento, Caltanissetta, Emna, Ragusa e Siracusa. Un secondo gruppo a Catania, nonché in considerazione delle peculiarità di quei territori che richiedono una più incisiva presenza del corpo, a termini merese, a Milazzo, Gela e Marsala. Inoltre, in linea con quanto avvenuto a livello nazionale, le tenenze aeroportuali di Punta Raisi e Fontana Rossa sono state elevate a livello di compagnia al comando di un capitano, così come le brigate di Carini, Lampedusa, Pachino e Pantelleria sono state soppresse e trasformate a livello di tenenza, al comando di luogotenenti esperti e di elevata preparazione tecnico-professionale. Infine, nel quadro della rivisitazione dei reparti specializzati ATP, i baschi verdi in servizio a Catania sono ora inquadrati in un'apposita compagnia. Cambiamo argomento, si è conclusa la quattordicesima edizione della manifestazione Volanti d'Oro. Sei le specialità dell'automobilismo isolano coinvolte nella serata di premiazione che si è svolta a Cefalù. Ad aggiudicarsi il premio Volanti d'Oro, gli storici piloti Mannino e Giannone. Sei le specialità dell'automobilismo isolano coinvolte con circa 250 tra premi e riconoscimenti assegnati ai migliori piloti nelle categorie rally, salite, slalom, regolarità classica, off-road 4x4 e kart nella quattordicesima edizione dei Volanti d'Oro che si è conclusa a Cefalù. I premi sono stati assegnati da una giuria composta da tecnici e giornalisti del settore ed appassionati che hanno valutato l'esito del voto fatto registrare dal web e poi hanno decretato le loro assegnazioni. La sezione riservata allo slalom ha visto primeggiare il giovane Michele Puglisi mentre nelle salite è stata la volta di Domenico Cubeda. Assegnazioni mirate invece per il mondo della regolarità classica che ha visto la presenza in sala di centinaia di esponenti di diversi sodalizi siciliani come il veteran car club Panormus e la Sicilia dei Florio. Per la sezione fuoristrada 4x4 Simo Nadur e Biagio Montalbano hanno assegnato i loro riconoscimenti. Premiato nel settore kart il giovane pilota palermitano Gabriele Mini assente e giustificato perché impegnato in un'altra gara ad Adria. Per la sezione rally la giovane promessa è il Misseno Giovanni Lanzalaco. Il migliore navigatore nelle sezioni storiche è stato il palermitano Natale Mannino. Assegnati premi anche alla memoria dei due piloti scomparsi recentemente Mauro Amendolia tragicamente scomparso durante la penultima edizione della Targa Florio ed Antonio Stamio portato via da una malattia a cui è dedicata la categoria miglior pilota. L'assegnazione dei volanti d'oro ha visto primeggiare gli storici Mannino e Giannone. Tanti gli ospiti della serata. Il sei volte campione italiano assoluto rally Dario Cerrato presente col suo navigatore storico Zeppi Cerri. Il preside volante Nino Vaccarella, tre volte vincitore della Targa Florio Mondiale di Velocità. Il calzolaio dei piloti Ciccio Liberto che ha fatto le scarpe ai più grandi piloti automobilistici di ieri e di oggi che ha donato la sua firma alle statuette di riconoscimento date ai vincitori. Ed il sindaco della città Normanna di Cefalù, Rosario Lapunzina. Anche per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento all'edizione serale di Media News. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.